Buongiorno a tutti, sono Elena del benessereolistico.com. Oggi vediamo come trattare il nostro dolore alla zona cervicale tramite la riflessologia facciale vietnamita, metodo Dien Chan, protocollata dal Nguang Le Quang, di cui sia io che il mio collega Andrea siamo stati allievi diretti. Secondo questa mappa riportata sul nostro viso, la colonna vertebrale si trova sul nostro vaso, partendo dalla zona cervicale, zona dorsale, zona lombare. Quindi in caso di sovraccaricamento della zona cervicale, dolore da postura, colpi d'aria dal finestrino nelle giornate calde o aria condizionata, noi possiamo andare a creare un movimento di sollievo andando a lavorare tutto il nostro naso con i due indici, con un movimento rotatorio di scarico di tutta la nostra colonna e poi, dopo aver ripetuto questo percorso almeno due o tre volte senza troppa fretta, ci concentriamo proprio sulla radice del nostro naso andando a pizzicare con abbastanza forza. L'idea è proprio quella di creare quasi una linea rossa sul punto di appoggio di eventuali occhiali in modo da andare a scaricare la zona. Dopodiché andiamo a scivolare su tutto il nostro naso nuovamente con l'idea di buttare fuori le tensioni e dovreste già sentire un sollievo alla vostra zona cervicale. Provate e fateci sapere i vostri riscontri.